Tiene, 112 rispondono i carabinieri. Dall'altra parte del telefono c'è una 92enne, racconta di essersi rifugiata in casa dei vicini. E' spaventata dal figlio, arrivato all'improvviso dopo che gli era stato notificato il divieto di avvicinamento all'abitazione dell'anziana mamma in seguito a una denuncia per maltrattamenti in famiglia. I militari si precipitano sul posto e trovano l'uomo, 55 anni, ancora dentro l'appartamento della madre. Colto in flagranza di reato è stato portato al carcere San Pio X, dove oggi è stato convalidato l'arresto.